Un pacco che mi hanno mandato. Un pacco? Un pacco. Hanno mandato i figli. I figli, ma qualcuno ve l'ha mandato. Mi hanno detto che devo consegnarlo a voi. Ah, sì, sì. E Emanuele? Tutto a posto? Tutto a posto. Mi raccomando. Allora, c'è questo pacco che io l'ho scaricato... Quello a nipote. Buongiorno, a nipote. Buongiorno, venite, venite che... Buongiorno, il nome? Salve, Maria, Maria. Maria, ciao, e lui chi è? Lui è Francesco. E lui è Francesco, compagiccio. Compagiccio, perfetto. Allora, io sono venuto a consegnare un pacco alla signora Rosetta, al signor Domenico, che sono stato in Canada e me l'hanno dato da consegnare, però siccome non ho avuto tempo, ho avuto un po' di cose da fare. Grazie, grazie. E allora sono venuto oggi a consegnarvi. Oh, mo', ve l'ho poggiato qua, signor. Eh, eh, è un po' pesante, venite. Eh? E chi lo manda, chi lo manda? Chi lo manda? Eh, chi ne sa? Ce lo manda a piccone, sa? Ma pesa, pesa. Signor Domenico, per uscire dalla macchina non dico che mi sono fatto una piccola ernietta, ma ci ha voluto una fatica, una fatica che... Perché c'è stato un motore qua dentro? Un motore c'è qua dentro. Ma chi ne sa? C'è una motosapp? Chi ne sa che c'è? E allora io... Aspettate che lo alzo io. No, 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 ve lo entro io. No, 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 no. Se pesa, se pesa molto. Non vi preoccupate, faccio io, faccio io, non vi preoccupate. Facciamo insieme magari, no? Allora, Maria, vieni che sei arrivata giusta, no, sei mettendo il microfono. Ecco qua, che io ci prendo il pacco. Non vi preoccupate, si è domani. Non vi preoccupate che faccio io. Pesa, pesa. E che mettere? Beh, aiutate, tirate, 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 tirate! Marramba! Che sorpresa! Vi abbiamo consegnato vinci! E che è che è qua? Oh! E per questo pesava molto, per questo pesava molto il pacco. Infatti. Signora Rosetta, bella sorpresa. Sono sorpresissima proprio, sono contentissima. Mi avete portato un grandissimo regalo. Avete visto che pacco prezioso. Grazie, grazie. Bene, sicuramente sarete contenti. Grazie, tante. Sono emozionata pure. Oh, signor Vicenzo si preoccupava, mi fa che a mamma le pigliare una cosa. Ecco, no. Ha contentissima che ti viva. Di solito me le fa queste sorprese. Sì? Perciò, sì, sì, sì. Non è il pacco, però, non è il pacco. Questa è la prima volta. Con un pacco solo noi potremmo fare, signora mia. Grazie, tanto. E che arrivava a studiare una cosa di questo tipo. Solo noi. Oh, Vince. Vince, un tapposso. Ce l'abbiamo fatto. Grazie, grazie molto a tutti. E al mio figlio che ha fatto questa sorpresa. Da quando non vi vedevate? Con lei è da poco, da un paio di mesi, perché è venuta proprio, dato che mia moglie ha partorito, abbiamo avuto una bella bambina. Così, tu ti dovevo fare gli auguri e mi sono dimenticato, ma anche se te li ho fatti telefonicamente. Tanti auguri. Ci dai tanti auguri anche a tua moglie e la bimba si chiama? Rosita, come mia mamma. Carmen, come la mamma di mia moglie. Rosita Carmen. Benissimo, Rosita Carmen. E allora, signor, ma facciamo una cosa. E vi dico, tra siamo dentro un po'. Sì, sì, è il comodo. O scatolo vi serve? No, no. Tanto il contenuto dello scatolo è quello che è importante. Il contenuto dello scatolo è importante. Quindi, bella sorpresa. Andiamo, Maurizio, seguici. Maurizio, non guardare così. Non ti permette. Vieni, vieni. Compariciccio. Noi andiamo. Maria, dove vai? Tanto piacere. Di là. Vado. Io mando i saluti in Canada a tutti i miei caggini e approfitto, niente, di dire che al più presto ci vedremo. Benissimo. Compariciccio, ciao. Anche da parte di Francesco. Dammi la mano, compagì. Ciao, ma piglio. Se tu non me la dai, io me la piglio. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Stava chassendo prima io? No, signor chassendo prima io. Vai, va bene. Emanuele, vai. Signor Domenico, prego. Vince, la sorpresa di oggi è ancora che avete visto. Wee, sgranchisci, cancio su scatola per forza. Stascia morendo, stascia. Andiamo, andiamo, andiamo. Wee. Grazie. 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 Grazie.